Diciamo che ieri sera si è fatto sicuramente un passo avanti notevole nella direzione giusta. La proposta necessita di un ulteriore approfondimento, specie per alcuni aspetti giuridico-legali, perché non possiamo immaginare di trovarci fra 5-6 mesi in un altro stop. È una proposta che comunque trova il nostro consenso e ovviamente perché sia consenso vogliamo, come abbiamo sempre chiesto, diventare parte in causa nella discussione da qui in avanti, nella individuazione di quelle che potrebbero essere le opportune soluzioni. Devo dire che ieri sera si è messa sicuramente una pietra miliare dopo 4 anni di sofferenza. Non siamo certamente a gloria finale, però speriamo di esserci andato vicino. Le premesse ci sono. Abbiamo verificato la disponibilità anche ieri sera dei soggetti attuatori. L'opera viene, sì, leggermente ridimensionata, ma non tanto da incidere su quelle che sono le funzionalità della didattica. Certamente no, migliora per l'aspetto delle strategie, dei consumi dell'edificio e questo non può che vederci ovviamente convinti essertori. Come giudica questa nuova proposta messa sul tavolo? Direi soddisfacente, un elemento di novità dopo un paio d'anni di stallo e quindi soddisfazione perché viene confermata l'intervento sull'edificio di proprietà della Fondazione Clara Maffei, così ci ha detto il Presidente Gianni Lazzari. Viene confermato, anche se non abbiamo visto l'ipotesi di Massimo, lo studio di fattibilità, confermata l'impostazione a corte della scuola, quindi garantito anche un uso ampio dello spazio verde. Costi maggiormente contenuti che consentono agli operatori di ridurre il loro intervento volumetrico. Si aggiunge a questo un'affermazione fatta dal Presidente del Consorzio che riguarda l'edificio delle Canossiane. Pare non ci sia più l'intenzione di demolirlo completamente e scavare due o tre piani di parcheggi, cosa che ci pareva già da anni difficilmente realizzabile. Lanciamo formalmente un'idea, quella di trasformarlo in un ostello della gioventù europea, in modo che il nostro centro storico diventi ancor più ospitale. Abbiamo fortemente voluto un incontro con gli attuatori del PI Clara Maffei perché tutto quello che è successo poi nell'ultimo periodo soprattutto ci aveva deluso particolarmente. La riunione di ieri, il Consiglio Comunale straordinario, è stata importante perché ha permesso un faccia a faccia diretto con gli attuatori, ha permesso di spiegare quali erano le nostre ragioni della nostra insoddisfazione che poi credo sia quella di tutti i cittadini di Clusone e ha permesso infine poi di condividere una proposta di attuazione poi dello standard che rimette un attimo in discussione quelle che erano le scelte già prese, sulla quale oggettivamente in questo momento è difficile poi dare una valutazione. È chiaro che siamo tutti contenti di poter considerare ancora aperto il discorso e di non aver chiuso definitivamente o accantonato l'idea di poter vedere un nuovo asilo, però dobbiamo essere anche consapevoli che il percorso adesso è lungo ed è difficile.